ciao a tutti ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina qui è tutto gratis lo sarà sempre qualora vi facesse piacere anche se è gratis non siete obbligati ma se lo fate ci date una mano ad arrivare a 10.000 iscritti certificati reali che questo è un canale che ha numeri di canali superiori ai 20.000 quindi dipende anche da voi non dipende solo da me e non lo so dov'è il cinese è inutile tu continui a chiedermelo non lo so dov'è non mi interessa nemmeno poi per chi volesse ancora è aperta a tutti partecipare far parte della chat degli esonerati scansionate il cod ed entrate a far parte del canale whatsapp degli esonerati dove ci confrontiamo tempo permettendo lavoro permettendo quotidianamente su quello che accade nel mondo inter a proposito di mondo inter del mondo inter si può dire c'è una delle partite più importanti dell'anno domani l'atletico madrid è una squadra che l'è cambiata cioè una squadra e che rispetto a un paio da due anni fa prova a proporre calcio giova molto di più è molto più propositiva ma è comunque una una squadra fondamentalmente con una grandissima base di garra di grinta capito cioè sono comunque portati alla fase difensiva stanno provando a giocare di più ma stanno prendendo anche molti più gol perché provando a giocare lasciano spazi ed è qui ed è qui dove noi dobbiamo intervenire perché loro devono essere per forza propositivi non parcheggeranno il pullman soprattutto in quell'inferno là di stadio e lasceranno degli spazi motivo per cui ho letto nelle ultime nelle ultime ore che gioca danfris totalmente d'accordo proprio perché ci saranno spazi io farei giocare danfris e non darmianne e conterà tantissimo la condizione di tikus turam proprio per gli spazi che loro lasceranno perché li lasceranno gli spazi un altro giocatore fondamentale secondo me per questa partita oltre all'inserimento di danfris turam per quello che concede gli spazi no che loro comunque lasciano perché io l'atletico madrid ho visto le ultime otto nuove partite si giovano si sono pericolosi grande squadra ottimi giocatori anche in panchina ma lasciano tanti spazi soprattutto quando in quelle partite dove vogliono essere più propositivi fondamentale sarà anche c'è la no non l'ho visto benissimo contro il bologna gli manca un po di gamba ciala non l'ho visto benissimo ma fondamentale sarà anche lui ricordati che all'andata al ciala gli hanno fatto una gabbia vedi anche come ha giocato dei polli quindi anche lui dovrà essere bravo ad uscire da quella gabbia che gli andranno a creare fondamentalmente e e poi ragazzi zigze 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 l'ho creato io su youtube non lo conosceva nessuno sono stati primo su youtube prima di inter bologna dell'andata dissi occhio a questo ragazzo sta tenendo l'attacco del bologna da solo è fortissimo nessuno lo conosceva parlo del piccolo del piccolo dell'enorme mondo di youtube di tutti gli esperti strapagati dei professionisti io dissi occhio al zigze ora lo vogliano tutti mi sembra però strana cosa che il bayern non se lo riprenda lo rivenda 50 60 milioni perché secondo me 30 milioni per zigze sono un po' non lo so magari 30 milioni e basta ma poi siamo sempre lì chi lo paga zigze chi lo paga stamattina è cominciato il bombardamento ecco se prendono zigze cedono lautaro e turano calma calma per ora non vedo nessun riscadenzamento io ufficiale non vedo nulla ottri non ha detto nulla nessuno dice nulla sono i leccatori di direttano di zanghe che si che 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 si che si autocertificano da soli che 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 danno ufficia che danno ufficialità che non esistono attenzione stesso discorso del milan ha smettito scarroni ieri ha smettito cardinale due volte hanno smettito tutti calma parliamo dopo le ufficialità visto che bisogna fare le persone serie giusto calma dov'è riscadenziamento non vedo nulla io mi stavo a metà marzo di cosa stai ragionando tra due mesi è finito tutto calma calma devo dire una cosa a tutti i leccatori di terretano di zang vi dico una cosa a voi voi siete i difensori dell'inter no voi che siete che siete quelli che che difendono l'inter ma io parlo a gente a gente su youtube soprattutto no ma vi rendete conto voi voi siete talmente offusca allora innanzitutto voglio aprire una parentesi quando uno ha solo una versione e parla sempre bene di una cosa che è impossibile che sia una scuola di calcio che sia una persona tutti sbagliano tutti hanno dei momenti di bassa e di alta qualità quando te vedi su youtube gente che parla solo bene di questa specie di presidente vuol dire sono in cattiva fede perché ti sembra strano e zang non abbia fatto mai nessun errore secondo loro sono in cattiva fede parlano bene di questa specie di presidente solo ed esclusivamente per interessi e la voglio chiudere qui ma di questa società che non parla perché ti dico una cosa questo te l'avrebbero dovuto dire leccatori di derretano di zang ma te la dico io non sono nessuno fare sempre la pecora o l'agnello non va bene perché alla fine parlo della non comunicazione dell'inter ovviamente perché alla fine a fare la pecora o l'agnello vieni mangiato dal lupo ed è quello che sta accadendo all'inter te lo ripeto me l'aspettavo questa cosa dai leccatori di derretano di zang però ho aspettato apposta tre quattro giorni per fare questo video ma ho visto che dal loro dalla loro parte zero si vede non hanno nessun interesse a dire questo ma te lo dico io da tifoso del nitro che non nessun interesse come loro a parlare bene di una persona che non esiste perché il presidente litro non esiste te lo dico io va bene te lo dico io come per l'interesse di tutti i tifosi dell'inter in questa società non parla nessuno e siamo tutti d'accordo per quello che riguarda la curva la curva nord in altre tifoserie per quello che sta accadendo alla curva nord perché parlo della curva nord non ho mai parlato io della curva ma te lo spiego perché sto parlando della curva nord di milano dell'inter perché in altre tifoserie parlo delle restrizioni ovviamente che hanno dato la curva nord in altre tifoserie ed è tutto certificato sono successe cose molto ma molto ma molto più gravi e non è stato preso mai nessun provvedimento mai in nessuna curva d'italia mai l'inter la società continua a stare zitta quindi io da tifoso dell'inter cosa spero spero vivamente che la questura si degni di togliere queste restrizioni alla curva ma perché ti dio questo io non faccio parte della curva non sono mai nemmeno stato in curva a vedere la partita io non ho problemi a dirlo non so nemmeno come organizzata la curva del nord dell'inter non so nulla io della curva nord dell'inter ma perché ti dio questo perché il fatto che non si possa festeggiare con bandiere tamburi ed impianto audio è una vergogna ripeto perché d'altre parti sono successe cose molto molto più gravi hanno fatto finta di nulla oppure se sono successe in altre tifoserie cose le restrizioni sono state tolte perché la società di riferimento si è andata a lamentare ma qui stanno tutti zitti ti ritorno al discorso della peore dell'agnello che alla fine viene mangiato dal lupo ecco perché ti dio anche queste cose perché sarebbe gravissimo vincere lo scudetto e non poter festeggiare e non veder la curva dell'inter festeggiare che è il cuore pulsante di tutta la tifoseria ma sarebbe comunque una cattiveria verso tutti i tifosi dell'inter perché se no alla fine diventa lo scudetto del covid quando non si poteva andare a giro non si poteva fare nulla e chi cavolo deve parlare all'inter io io devo parlare giuse 10 che non è nessuno deve parlare con la vestura di togli le restrizioni come hai fatto tutte le altre tifoserie d'italia per quello ti dico serve una proprietà presente serve qualcuno che strutturi questa organizzazione in maniera diversa ci sono state tantissime cose positive quest'anno ma ti devi strutturare ti devi organizzare devi investire devi gestire la comunicazione così non va bene e incominciano esserci primi esempi guarda quello stanno facendo alla curva nord dell'inter ecco perché io ecco perché dio certe cose perché a volte prevenire è meglio che curare dire cose durante questo periodo spettacolare dove i meriti sono solo ed esclusivamente di allenatore giocatori e dirigenza però ragazzi io ve lo dico non c'è solo il campo da gestire nel mondo del calcio e tutta la parte esterna che va gestita altrimenti non ci sarebbero detti all'ommunicazione non ci sarebbero determinate determinati ruoli in certe società di nelle società di calcio noi quella parte lì comuniativa l'abbiamo abbandonata e alla fine la paghi perché qui per colpa di una società assente per colpa di qualcuno che non parla mai per colpa di uno che non sa che fine ha fatto si rischia di festeggiare lo scurretto del covid ci siamo capiti poi atletico madrid questa è una prova importante forte per vedere a che livello siamo perché la finale di champions league ci ha dato una sicurezza ci ha dato una leggerezza mentale devastante si vede quest'anno sono cresciuti tutti grazie a quella finale ma io sono positivo per la partita contro l'atletico madrid ciao inter ciao ciao ciao